Addio al punto nascita di Bibbiena, che sarà centralizzato ad Arezzo. Questo è il punto che salta all'occhio del nuovo patto territoriale sanitario del Casentino ratificato nella Sala del Consiglio del Comune di Bibbiena, alla presenza di tutti i sindaci, escluso quello di Castel San Nicolò. Secondo la ASL, dal 1 giugno passerebbe ad Arezzo solo il servizio nel giorno del parto, mentre tutto il resto rimarrebbe in Casentino, con l'aggiunta di prestazioni oggi invece garantite solo al San Donato. Prima dei lavori della conferenza dei sindaci è stato ascoltato il Comitato dei Cittadini, che ha ribadito il proprio no al piano e alla chiusura del punto nascita. I sindaci hanno ribadito come ormai il percorso sia stato compiuto e che gli stessi operatori sanitari interpellati abbiano ritenuto fondate le ragioni per la chiusura dovute a standard di sicurezza, venuti meno per il basso numero di nascituri. Il piano comunque prevede anche altre novità che scatteranno sempre dal 1 giugno. Sarà potenziata la rete dell'emergenza territoriale con l'introduzione dell'automedica, con a bordo medico-infermiere e il raddoppio delle ambulanze. Sarà potenziato il pronto soccorso attraverso l'incremento dei letti in osservazione e la realizzazione della cosiddetta piastra dell'emergenza, un modello organizzativo di integrazione professionale tra i medici dell'area critica, anestesisti per la gestione congiunta delle patologie critiche e ad alta instabilità come ictus post-operatorio complesso, insufficienza respiratoria grave, eccetera. Saranno potenziate le attività sia di chirurgia generale che di chirurgia ginecologica, l'attività diagnostica, ginecologica e isteroscopica. Saranno potenziate le attività pediatriche ospedaliere con attivazione dei day service pediatrico, potenziando l'ambulatorio allergologico e attivando l'ambulatorio pneumologico pediatrico. Attualmente l'ospedale del Casentino copre ad oggi il 92% dei bisogni di ricoveri dei residenti di area medica. In Casentino sono oltre la media regionale sia i tassi di mortalità per infarto e malattie cerebrovascolari e l'ospedalizzazione superiore ad ogni altra zona per malattie respiratorie.